Oltre 3.000 metri quadri di esposizione, tanta gente qui oggi a Barletta per la nuova apertura di Nuova Arredo. Naturalmente madrina d'eccezione, Anna Falchi. Sono molto legata a questa azienda, come lo dice lo stesso claim, poi il nostro motto da Nuova Arredo ti senti a casa, ed è effettivamente così. È una grandissima famiglia con grande voglia di andare avanti, con progettualità per il futuro, nuova opportunità, nuova inaugurazione e ben venga in un periodo di crisi andare un po' controcorrente e continuare a investire e crederci sempre. Una volta che impari a conoscere tanti prodotti e soprattutto utilizzarli nel miglior modo, come tradizione vuole, è la ricetta vincente chiaramente. Io sono molto affezionato alla Puglia che mi ha dato tantissimo, continuo a darmi e continuerò a frequentarlo penso per sempre. Perché un personaggio famoso decidi di legare la sua immagine ad un marchio come questo? Perché innanzitutto è una mia grandissima passione quella dell'arredamento, quindi per me è un vero piacere poter fare delle ispezioni proprio in questi luoghi dove naturalmente c'è una grandissima scelta, avresti voglia di cambiare continuamente l'arredamento e non potendolo fare magari in prima persona, posso consigliarlo anche agli amici. Fin da piccola sono sempre stata un architetto mancato, ancora di più un interior designer, quindi proprio mi piace, è una grandissima passione. Poi chiaramente in questo caso il protagonista è la cucina che mi ha vista ai fornelli e ci sono sempre nuove tecnologie, nuovi forni, molto più performanti e chiunque può stare in cucina, anche magari chi non è particolarmente portato, ma ormai è tutto così velocizzato che non ci sono più scuse. I prodotti ci sono, la tecnologia c'è, la scelta c'è, allora cosa c'è di voglia di nuovo? Arredo. Siamo contentissimi di essere approdati a Barletta, città di mare, cultura e storia. Noi ci devono essere soprattutto perché legati al territorio e volevamo intensificare anche il discorso professionale che si era creato negli altri punti vendita direttamente nella città di Barletta. Qui porteremo tutte le novità per quanto riguarda il design, l'arredamento, le ultime novità per quanto riguarda gli elettrodomestici. Il piano cottura diventa induzione con la cappa incorporata, non più sospesa. Il forno diventa multifunzione, così anche il frigo. Poi ci teniamo particolarmente a essere qui a Barletta perché abbiamo notato che sin dagli inizi di Nuova Redo è stata seguita tantissimi clienti della Barletta che si spostavano anche in altri punti vendita. Perciò fare strada per venire a trovare quello che si vuole, quello che si cerca, la cucina dei propri sogni o la camera da letto che uno desidera, per noi era importante esserci e così agevolare anche i clienti della Barletta. La prossima apertura è Matera, dove naturalmente vi invitiamo, sicuramente ci sarà la nostra testimonia, la Anna, a fare questa nuova apertura importantissima per noi per quanto riguarda il discorso della Basilicata. Continua il tour per quanto riguarda gli show cooking in varie regioni d'Italia. È un punto vendita che ha una superficie di circa 3.000 metri quadri su due livelli. Un punto vendita che raccoglie il nostro ultimo format, che i clienti potranno trovare sia un arredamento classico, moderno, contemporaneo, soprattutto un arredamento che è abbastanza trasversale, quindi dal mobile conveniente al mobile medio, al mobile alto, dove sicuramente troveranno tutte le ultime tendenze del settore dell'arredamento. Il nostro maggior punto di forza è il servizio e quindi i clienti che vengono alle nostre esposizioni sono sempre accompagnati, hanno a disposizione un arredatore che tra l'altro mettiamo anche a disposizione proprio a casa del cliente con il servizio zero passi, dove possiamo anche recarci a casa per fare le misure e la progettazione proprio in loco. Un altro punto di forza nostro è la pronta consegna, gran parte degli articoli, circa il 50% del nostro assortimento è in pronta consegna e quindi subito disponibile e consegnabile entro 10 al massimo 15 giorni dal contratto.